Documenti alla mano, il sindaco di Grumo ricostruisce la storia della famiglia Mundo. Sette persone, tra cui una bimba di tre anni, che vivono, ci avevano raccontato domenica scorsa con lo stipendio del capofamiglia. Poco più di 800 euro, molto più elevato, replica il sindaco. La famiglia ha un capofamiglia che lavora, che ha una busta paga e un reddito anno importante. Ci sono anche delle altre indennità mensili che percepiscono. Una vicenda che risale a 15 anni fa. Per ben 15 anni, se non ricordo male, ha ottenuto una serie di benefici in quanto ha utilizzato degli alloggi comunali senza pagare un regolare canone, tra l'altro senza pagare nemmeno le utenze. Alloggio lasciato due anni fa per rischio crollo per trasferirsi nell'abitazione attuale. Fitto concordato tra proprietari, affittuari e comune, 350 euro al mese, di cui 100 a carico dei Mundo, che però quell'accordo non l'hanno mai firmato, ne hanno mai versato la loro quota, di cui lo sfratto il prossimo 28 novembre. Il Consiglio Comunale si apprezza ad approvare la somma complessiva come debito fuori bilancio e si riserva di avviare un'azione di rivalza nei confronti della famiglia. Dal 2010, spiega il sindaco, ci siamo ridotti in comune l'indennità del 52% per aiutare chi ha bisogno e il prossimo anno si farà fronte all'emergenza abitativa, con la costruzione di 24 alloggi comunali da assegnare con un bando alle persone in difficoltà. L'appello che faccio è a quella gente che in realtà ha bisogno, che vive momenti tragici e che magari per dignità o perché si vergognano a venire qui in comune, non riescono a chiedere un aiuto.